benvenuti sono metti mars oggi voglio fare un video un po' differente dal solito perché voglio fare voglio farvi vedere le offerte del break free day di amazon e vorrei mostrarvi magari le offerte forse non più convenienti del mondo ma quelle più interessanti quindi io direi di partire subito con un cuscino per ginocchia molto molto interessante non sapevo nemmeno che esisteva scusate la miglioranza non so se vi è mai capitato arrivare a notte fonda di non avere sono di rigirarvi nel letto non sapere come fare ma questi tempi sono finiti perché oggi potrete sì non dormire per l'insonnia ma le vostre ginocchia potranno fare suoni tranquilli con il cuscino per ginocchia quindi da oggi in poi vi capiterà magari di essere rintontiti perché non avete dormito tutta notte ma le vostre ginocchia saranno talmente riposate che andranno da sole come abbiamo fatto fino ad oggi a non usare il cuscino per ginocchia quante volte quante volte vi sarete sentite le ginocchia stanche e magari avete pensato quanto vorrei far dormire un poco le mie ginocchia magari anche mentre lavorata al computer si staccate il cuscino che russeranno dal dormire mentre voi sarete al computer a fare quello che volete e vi alzerete riposati per quanto riguarda le ginocchia questo è un prodotto unico e autentico della ditta vavangu vavangu oggi per la prima volta nella storia di questo prodotto è sconto addirittura del 50 per cento quindi ragazzi approfittate perché oggi non avete più scuse da oggi in poi potete dire che dormita di ginocchia allora ragazzi altro oggetto molto molto interessante licitina di furto cintura di sicurezza per bambini con il braccialetto allora avete l'ossessione compulsiva di perdere vostro figlio anche per un secondo potete mettergli le manette potete fargli capire fin dall'inizio la dura legge del carcere a vita pur non avendo fatto niente che è la vera realtà del carcere quindi comprate pure questo prodotto che fa per poi a soli 7 euro e 42 col 20 per cento di sconto perché costerebbe anche di più quindi ragazzi ve lo consiglio a tutti sarete un figlio anche la finanziata potrebbe essere giusto siete gelosi della fidanzata manette braccialetto estensivo quindi anche un leggera libertà di magari mezzo metro quindi se deve andare in bagno si deve fare una cosa particolare anche la sua riservatezza perché lo può fare quindi è consigliato a tutte le età e a tutte situazioni bambini genitori con bambini fidanzate vecchi chiunque questo è un prodotto che possa utilizzato per chiunque ma che bello ragazzi l'orologio patata cartoffello e fellur cartoffello usate la mia pronuncia che non è praticamente tedesca alla perfezione e mi dispiace per questo prodotto che merita tutti i riguardi e tutti i rispetti cartoffello è un orologio patate siete stufi del solito ticchettino dei soliti orologi al polso noiosi fastidiosi che magari vi danno anche prurito che se si bagnano non funzionano più abbiamo il calto al fuller e funziona esattamente come un orologio normale anzi meglio perché se poi vi stufate dell'orologio e volendo lo possiamo fare anche al forno quindi uniamo l'utile al dilottevole ragazzi poi questo è un orologio che nasce come un orologio da taschino ma volendo si può ordinare anche un comodo cinturino da mettere al polso e far diventare questo splendido orologio un orologio da polso quindi ragazzi cosa dire a 11 euro e 93 col 5 per cento di sconto credo ma non importa perché talmente bello che non ha prezzo ve lo consiglio cartoffello va bene ragazzi direi di concludere qui anche perché mi sa che solamente con questi tre prodotti noi abbiamo svoltato proprio alla grande perché sono prodotti bellissimi particolarissimi e innovatissimi che cambieranno la vostra vita quindi io ve li consiglio vivamente e ci vediamo alla prossima volta magari con altri prodotti chi lo sa vedremo ciao a tutti ciao a tutti